qualcuno diceva qualcuno alludeva che il milan fosse favorito perché il milan a ogni volta che affronta qualche squadra il milan c'è degli assenti l'altra squadra è la roma senza di balla e lukaku e la lazio senza immobile eccoli qua eccoli qua questa è la narrazione che la gente cerca di costruire quando le cose quando le fave non gli vanno in cubo ci dice dalle mie parti ma allora stiamo arrivando a questo mila juventus quando si è fermata la sosta nazionali la prima narrazione è stata sull'arbitro non ve lo dimenticate la narrazione che hanno fatto sull'arbitaggio di genoa mila perché è la stessa che fece conte dopo parma juventus del 2012 e la partita successiva era mila juve avvenne il gol di montari quindi non vi dimenticate tutta la narrazione che c'è stata in quella partita perché vedrete vedrete come l'arbitraggio sarà condizionato il mila juve ma non perché non perché sarà falsato dalla juventus non sto dicendo questo ma un arbitro che è una persona umana viene condizionato dal fatto che si dica che il milan doveva subire quel collo glielo dovevano togliere bla 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 il mila favorito e quant'altro giorni di massacro nella testa degli arbitri per fortuna quest'anno a differenza di dieci anni fa c'è il VAR quindi ci si augura che con il VAR non possa diciamo essere condizionata la partita totalmente e che quindi ci sia una partita onesta e questo ce lo auguriamo tutti credo milanista gli uventi ora al di là di quella narrazione lì poi era partita un'altra narrazione no è la juventus e senza chiesa e senza vlaovic danilo si è fatto male in nazionale bene siamo a tre giorni dalla partita l'unico assente titolare della juventus è danilo poi c'è fagioli che comunque non è un titolare fisso ma fagioli si è auto causato un problema quindi non è non può essere una scusante e Vlaovic è in gruppo e fa le rovesciate in allenamento non so se l'avete visto e chiesa è sulla via del recupero dicono in dubbio ma chiesa giocherà io vi metto per iscritto e chiesa giocherà dal primo minuto quella partita ma è previsto da quando ha lasciato la nazionale che chiesa sta recuperando per quella partita quindi che chiesa ovviamente non era in condizioni secondo me di giocare la partita della nazionale e piuttosto che stare lì con la nazionale ha preso e tornato alla condinassa fare il suo periodo di recupero e giocherà quella partita ma il milan come ci arriva a questa partita come ci arriva il milan ci arriva senza megnano squalificato senza tevernante squalificato e questi sono colpevoli è solo per annoverarli tra le assenze perché sono assenze però colpa loro si sono squalificati ma gli hanno un po meno colpa perché è roba di campo tevernante stasera è proprio cercato loft chic in dubbio e c'è la champions league tre giorni dopo crunic in dubbio calulù in dubbio e ben naser infortunato lungo del genere un titolare a tutti gli effetti ben naser infortunato non c'è su quei infortunato non c'è pulisic rietrerà dall'america insieme a musa saranno buttati in campo con un giorno di allenamento con fuso orario nelle gambe e stesso vale per ciao che è stato negli stati uniti a giocare tutte cose che bisogna bisogna annoverare importa manca sportiello perché notizia dell'ultima ora si è fatto male sportiello e giocherà mirante voi pensate che mirante non gioca una partita ufficiale dal 2021 manchester roma prese otto gol in due partite mirante 40 anni non gioca da due anni praticamente lo dobbiamo scongelare può mettere in dubbio che a questo punto valuterei di mettere il portiere della primavera poi se giocherà mirante mi auguro che faccia bene cioè ma la narrazione che la gente ha costruito il milan c'ha quattro titolari almeno assente se non recuperano loftus e crunic sono cinque sei titolari assenti ma di che stiamo parlando ma quale milan contro le squadre defraudate dai propri calciatori ma quando mai ma che calcio guardate ma che cosa dite ma che cosa raccontate ai tifosi poi parliamo di casa nostra in due mesi di campionato abbiamo avuto due stop muscolari megnano ha saltato una partita sportiello salterà un mese perché verrà analizzato dopo la sosta di novembre quindi un mese e più voi pensate che se andate sul transfer market a prendere la tabella infortuni di sportiello ma non c'è bisogno che andate sul transfer market andate sul mio twitter l'ho postata io lui ha escluse febbre coronavirus che non sono robe di campo come infortuni il massimo che è stato fuori nella sua carriera è stato sette giorni ora starà fuori una quarantina cioè vi sembra normale che un giocatore arrivi al milano un portiere non un attaccante un difensatore che si può far male in qualsiasi momento un portiere arriva al milano in allenamento e resta fuori 40 giorni quando non è mai stato fuori così tanto nella sua carriera in più in più sportiello era l'unica settimana in cui doveva giocare perché se magnano non c'è si è riuscito a rompere sportie ma io ma è mai succede sempre così si rompe sempre il titolare di sostituto il titolare non è possibile non può essere sempre sfortuno e il preparatore di portiere è stato cambiato ad agosto ad agosto è stato cambiato e le cose non sono cambiate continuiamo ad avere infortuni muscolari dei portieri una cosa che accade praticamente solo a noi con una precisione incredibile con una puntualità incredibile da tre anni megnano 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 sportino e non va bene cioè fate un'analisi dei campi di allenamento fate un'analisi della preparazione non lo so che dovete analizzare non lo so perché non non so cosa attuate credo che ci steve che ci stiate pensando a milanello però fate qualcosa per me sono i campi perché non è possibile che da noi si fanno male i portieri muscolarmente alla stessa zona poi il maledetto polpaccio e analizziamo capiamo approfondiamo non facciamo finta di niente non facciamo finta che sia sfortuna non può essere sempre sfortuna contro il mila questa cosa va risolta non è possibile che arriva novembre veniamo falcidiati da infortuni che per questa stagione sono ancora pochi rispetto alle altre stagioni ma negli ultimi quattro anni è stata una roba una strage di infortuni muscolari che va risolta e io non so attenzione io non sono uno che dice cacciate pioli lo staff di pioli no 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 io non voglio essere così banale perché proprio per il fatto che hanno cambiato i preparatori dei portieri gli infortuni arrivano lo stesso è dimostrazione che non c'è da niente il preparatore o come fanno la preparazione per me il problema è un altro a questo punto devo pensare che possono essere i cambi allora se faccio un'analisi prendano uno specialista che diceva c'è qualcosa che non va nelle zoll non lo so non sono del settore ma qualcosa ci deve essere perché se questo in carriera non si è mai fatto male è un portiere e riesce a farsi male nella stessa zona di megnan non è che dici se fatto male un'altra cosa no la stessa infortuna di megnan e appena arriva al milan sarà saranno gli astri del destino tutto può essere però iniziano a vederlo troppe volte sta roba qua e io che sono tifoso del milan mi auguro che il milan possa approfondire questa cosa non mi interessa neanche che la gente chiede in conferenza a pioli cosa può essere perché le conferenze sono inutili le risposte sono preconfezionate non sono veri dire mi interessa però che il milan voglia arrivare alla soluzione del problema perché non è possibile avere primo e secondo portiere fuori stavolta megnan è per squalifica ma che megnan si sia fatto male così tanto nell'arco del suo periodo al milan anche lui prima del milan infortuna non ne subiva e che nella stessa zona si faceva la sportello che non si era mai fatto male in carriera sportello ha avuto un mal di schiena ma scherziamo poi ripeto tutto può essere può essere la sfortuna in mezzo che si è arrivato al milan e si è fatto male può essere ma approfondiamo cerchiamo di essere certi di questa cosa togliamoci questo dubbio comunque adesso vedremo come giocheremo con la juventus secondo me giocheremo con mirante io valuterei di lanciare il primavera perché veramente mirante io l'ho visto in un'occasione col psv e non mi ha impressionato in positivo poi giocherà a calabria tomori ciao non so se si metterà a tre quindi con calabria più alto e florenzi dall'altro lato come col verona ma io ho dubbi su questa scelta perché questa scelta non ti permette di essere abbastanza offensivo risiedi subire il gioco della juventus ed è quello che non devi fare perché la juventus addormenterà la partita poi e tireranno tanto da fuori secondo me poi a centrocampo molto dipende da loftus e krunic secondo me il centrocampo sarà reinders musad lì perché c'è la champions league secondo me loftus verrà conservato attacco con pulisic leao girù abbastanza scontato non soprattutto per ocafor che ha rimediato quel taglio in nazionale non credo proprio che giocherà insomma acqua alla gola siamo già in emergenza infortuni da un certo punto di vista perché comunque ci mancano o dei ricambi o dei titolari molto importanti poi ci sono aggiunte queste squalifiche dei magnan e teo hernandez che sicuramente bene non fanno fatemi sapere la vostra nei commenti scrivetevi al canale se siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche instagram twitter e tiktok su twitter trovate la tabella infortuni di esportirlo mentre su instagram stasera potrebbe uscire una chicca